Oggi ho preso in considerazione una sorta di felpa, una felpa, diciamo un modello di felpa realizzata girovanica intanto, come potete vedere adesso questa è la parte che ho scuscito, realizzata con un bel pizzo tipo macramè in cotone, questa è la parte del rovescio, e nella parte davanti abbiamo una rete in poliester, un velo in poliester, tutte le rifiniture si tratta di un cannolè per le rifiniture in cotone, come stile prodotto non è male, è un tipo di capo abbastanza fresco, veloce e sportivo, quello che non va bene è come spesso accade per brand, questo è un marchio italiano sì, ma come dire da grossista, e fanno poco caso alla vestibilità, come potete vedere questa spalla qui è molto larga, che significa che addosso, questa è una taglia piccola, è una SM, e su una spalla piccola questa manica cade tutto e ingrossa tanto questa parte sotto l'ascella, perché? Perché questo tessuto comunque sia, questo doppio tessuto, è abbastanza rigido, quindi le forme come vedete non sono ampissime, questa maglia è corta, il che vuol dire che quando si va a indossare qui si raggrinza tutto, allora che cosa andiamo a fare? Andiamo intanto ad enfatizzare i tessuti, perché addosso questa trasparenza diventa molto molto particolare, però se gli diamo poi una vestibilità più appropriata, soprattutto per una taglia così piccola, rispetto appunto alla spalla che è scesa e che in questo caso non darebbe enfasi al corpo femminile, in questo caso, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo stretto la spalla, come se venisse sopra a montare, non è tipo raglan, però ecco questa felpa in questo caso, il modello era raglan, era ottimale, abbiamo quindi tagliato un pezzo di spalla, abbastanza direi, come potete vedere, questa è la parte dritta e questo nel rovescio, la spalla che abbiamo tagliata è tanto e qui siamo andati a salire, andremo poi a stringere questa parte del corpo di modo che la lunghezza del giro manica sarà comunque lo stesso, una volta montato con una macchina appropriata, in questo caso una taglia e cuci sì, ma non un ago a due aghi, perché assolutamente i tessuti devono rimanere uniti e siccome alla fine questo sarà un capo abbastanza sportivo da indossare, bisogna fare in modo che la larghezza delle due cuciture, quindi con due aghi, tengano abbastanza tutti e due i tessuti. A capo terminato, cucito, vi farò vedere il risultato. Un saluto, Francesca, FDN Fashion Studio, seminari di taglio, cucito, stile e prodotto.